Cambiano i programmi, troppo maltempo sul sito dell'hotel travolto dalla valanga e da chissà cos'altro, ma non cambiano né il dolore, immutato e immutabile da sei anni, né l'esigenza doppia del ricordo e della giustizia. Rigopiano resta una lacerazione ancora aperta anche nella chiesa di San Nicola, dove affluiscono via via le autorità militari, politiche, religiose e soprattutto i parenti delle 29 vittime. La missione da sei anni è la stessa per chi ha perso figli, genitori, amici, verità e giustizia. Per arrivare al traguardo, oltre le cerimonie e i tribunali, viene utilizzato un veicolo leggero, candido, semplice come un palloncino che vola alto nel cielo plumbeo di Farindola. La fiamma che abbiamo dentro che ci porta avanti è proprio quella, quella della ricerca della giustizia e quella dell'unione. Noi ci aspettiamo ovviamente che la verità sappiamo qual è e lo sanno tutti. Ci aspettiamo che anche la giustizia ci dia le risposte che noi sono sei anni che ormai aspettiamo, ma tra un mesetto dovrebbe esserci già la prima sentenza. È un piccolo raggio di sole che vediamo alla fine del tunnel, forse. Poi ci sarà solo spazio per la memoria, per ricordarli. Sì, finiamo tutti i gradi di giustizia e poi l'obiettivo principale è sempre quello di ricordarli, di appunto renderli anche orgogliosi di noi, di quello che siamo diventati in questi sei anni e di come portiamo avanti questa battaglia. Come si reagisce a chi cerca di ascrivere quello che è accaduto ad una fatalità della natura, una valanga, un terremoto, quei fenomeni che l'uomo non può governare. Voi invece dite, quelli sono solo una parte della verità? Quella è solo una parte, perché la tragedia si poteva e si doveva evitare. Bastava banalmente già il giorno prima non scortare sopra tutte le persone che sono salite il 17 gennaio, tra cui i miei genitori, e far scendere quelli che erano presenti già nella struttura. Ovviamente questa è la verità che sta cercando di accertare la magistratura e siamo fiduciosi che ciò accada nel più breve tempo possibile. Oggi c'erano tanti spazzaneve lì su. Sì, il significato un po' del mai più è proprio quello. Purtroppo in questa situazione ci siamo capitati noi e non vogliamo che ci capitano altre persone come noi per le sofferenze che abbiamo sopportato. È un monito per tutti, per tutto lo Stato. Non devono accadere più queste cose. Vedere gli spazzaneve fa male, però è anche un segno magari di coscienza di chi ora sta amministrando questi territori. Il governo è qui per far sentire la sua vicinanza ai familiari delle vittime, ai superstiti, per non dimenticare e anche per ringraziare tutti coloro che si adoperarono allora per i soccorsi. È un modo per testimoniare la nostra vicinanza e questo sarà anche l'ultimo anniversario senza sentenza e l'anno prossimo saremo qui a ricordare. Penso che essere qui sia un dovere, chiunque oggi rappresenti il governo qui sia un dovere esserci e questo mi ha profondamente commossa e le parole che io ho detto loro erano parole di affetto. Ci siamo abbracciati.